Hello everybody, sono Anded e due giocatori incapaci e oggi vi presento Thomas Wasalon, un indie di Mike Beetle, composte le musiche da David Housen o Housen come si chiama. E' un gioco che ho sentito nominare tante tante volte, ma che non sono mai andato a vedere né di che genere fosse, né ci ho mai giocato. E' presumo, cioè so solo che è un indie, non so se è horror, di avventura, RPG, non so nulla. E non l'ho mai avviato, quindi questo resume che vedete è assolutamente falso, un attimo che magari abbasso la musica che io la sento un po' alta. Ah si, in realtà l'avevo avviato per mettere la musica al 20% per fare una prova di audio, ma non avevo assolutamente toccato il gioco, quindi non so perché c'è resume. Selezione scena, vabbè, new game, vediamo un po' cos'è. Cerchiamo di seguire la trama, il programma era un fallimento, le persone lo dimenticano, è stato davvero un fallimento. I programmatori cominciarono ad aggiungere le stringhe all'als come uno scherzo, Thomas AT e qualche numero. Thomas era da solo, che strano pensiero all'inizio, cioè per avere, che strano, che strano come primo pensiero. Allora, non si usa il mouse, mi pare di capire, sono un fottuto rettangolino rosa che deve raggiungere, oh mio dio, adesso ho capito che genere è. È uno di quei platform epici, tipo... Thomas decise di inizia che... Leggo eh, scusate. Ok, praticamente noi siamo sto Thomas e siamo molto bravi a cadere. Siamo tanto bravi a cadere quanto bravi ad osservare. Beh, un paragone che non sta né in cielo né in terra. Ma vabbè, prendiamolo per buono. Siamo al livello 0.3, sempre se sono considerabili i livelli. Uh, ok, allora, dice Thomas non poteva superare. What? Ah, ma che cazzo. Praticamente diceva, non poteva cadere per questo blocco. Quindi come farà? Proviamo saltando una caduta in bersa. Ma è geniale, è un salto. Come caduta in bersa. Allora, vediamo qui cosa dirò. Allora, come faccio? Ok. Ah, vabbè, ma posso saltare normalmente? O anche con spacebar, oltre alla freccia in su. Ok. E mi sta piacendo eh. Cioè vabbè, adesso che ancora è il tutorial però. Oh, 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 oh. Tu sei matto, tu sei matto. Oh, oh, oh. Ok, 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 ok. Quello già iniziava a farmi venire le pulsazioni al cuore. Praticamente dicevano, questi portali sembravano a Thomas come se li stessero portando, lo stessero portando da qualche parte. Come se stesse andando a progredire verso qualcosa. Ma dice, adesso ha detto, eh, che cazzo quanto parli, narratore esterno? Eh, what's the word test? No, ok. Praticamente è un tizio paranoico, probabilmente, che pensa che è soggetto a test in qualsiasi momento. Ok, la cosa mi sta fottutamente piacendo un casino. Penso sia una delle quelle cose psicologiche che adoro. Allora. Ok, mi sa che non dobbiamo cadere in questo fregno. Allora, che cosa dobbiamo fare? Ah, ok. Ok, dobbiamo schivare questa sottospecie di acqua. Mi piace il narratore esterno, comunque. Ha una voce molto sexy. Peccato che la musica che sento io è altissima. Ok, praticamente, Thomas sta iniziando ad accusare la solitudine, Cristo. La solitudine. E sembra che nessuna nota ossessiva o d'osservazione possano compromettere i suoi sentimenti di solitudine. Guardate se casco, ok. Livello 0.10. Quanti cazzo sono? Thomas aveva una nuova teoria. Il mondo lo stava mettendo alla prova. Pensava di poter diventare più intelligente. C'era una lista mentale da considerare. Ah, cazzo, non ho letto l'ultimissima cosa. Comunque, si sta evolvendo. Ha sperato... Sperava che qualcuno potesse condividere la sua evoluzione. Oh, cazzo. Madonna, parano... Tipo delle radiazioni sonore, queste cose. I picchi di... Come cazzo si dice? I picchi di... Di vibrazione. Eh, però, non riesco ad andare avanti. Ok, ci sono. Ok, sto iniziando a pensare che noi siamo tipo... Un esperimento di programmazione. Ah, è ok. Questo rettangolino arancione... È Christopher, credo. E... Credo che dobbiamo... Oddio! Dobbiamo completare gli elicon tutte e due adesso. Ok, ora... Ok, sto coso non salta tanto, ma comunque bisogna finire i livelli con tutti e due. La musica sta diventando altissima. Ok, eh... Non so come cazzo ci posso arrivare, però. Cioè, intendo... Sto... Sto Thomas salta abbastanza tanto. Mentre quell'altro no. Quindi... Non so... Che cazzo fare. Oh, porca troia! Mi è arrivato in faccia, ha sparato a mille. Sto rettangolo nero. Ok, eh... Quindi... E mo? Oh, cazzo! Eh, devo farlo per forza così. Ok. GG. Speriamo che basti... Con Qede cambio personaggio, se non l'avevate ancora capito. Anche se non so quanto vi possa interessare. Ok. Ok. Eh, anche lui è bravo a cadere. Ok, dobbiamo arrivare lì in alto. Che cazzo? E come? Che è? Ok, ha un pulsante. Oh, epico! La co-op inizia, eh. Una storia di incredibile co-op. Eh, però qui come cazzo passo? Ah, vabbè. Tanto il rosso può passare... Thomas può sempre passare... Eh... Da solo. Un'altra buona chance per Thomas... per saltare più alto di Chris. Ehm, che fortuna. E poi non ho letto. Rivalità di già, eh. In realtà non lo so, vabbè. Facciamo un ultimo livello. Allora. Hmm... Thomas era davvero bravo... perché... perché in superficie non lo sembrava. E Christopher si era spaventato. Christopher, ricordiamo, è il... quadratino arancione, beige, giallo... whatever. Ok, però... Eh, non posso saltare se ho lui sulle spalle, però. E allora devo fare per forza il contrario. Ok. Oh, cazzo. Scendiamo! Wow! Ehm... I think that... Ci arrivo? Vediamo un po' se ci arrivo. Sì, ok. No problem at all. Non c'è alcun problema. Ce la dovrei fare benissimo. Cazzo, qui però... è più distante. Eh, ma porca troia. Troppo distante. Cioè, è troppo vicino perché è distante. Ok, però ce l'ho fatta. Perfetto, siamo all'1.5, credo. Vediamo quello che dice il narratore, un attimo. Chris si fermò a guardare Thomas con puro odio negli occhi. Anche se sembra che di lì a poco sarebbe nasciuta una complicità. e ogni volta che si vede qualcosa che si sa, chissà di dire che... non è un idiota. Ok, praticamente tipo... Chris... Ma che cazzo? Smettila di parlare, però. Hai smesso? Grazie. Diceva praticamente... Praticamente... Chris... Eh sì, Chris... Christopher tipo si sentiva molto più... Si sentiva più felice quando... A ogni cosa che Thomas osservava lasciava fuori un... E Chris lo prendeva per idiota. E si sentiva più felice a caso, vabbè. Comunque devo dire che... Come posso dire? I caratteri di due figure geometriche non mi hanno mai interessato così tanto, insomma. Devo dire che... Potrebbe essere una bella perla indie questa che... Che sono veramente interessato a portare avanti. Quindi spero che anche a voi piace l'idea di questo giochetto. Cioè giochetto di questo gioco, non lo voglio sminuire. Sta cazzo di musica che mi sta facendo venire il mal di testa, anche se è pure caruccia. E scrivete qualcosa qui sotto. Se il video vi è piaciuto, ovviamente, puntate un bel pollicione verso il polo nord. Condividete il video. E se vi va... Anzi, se vi va condividete il video e iscrivetevi al canale. Quando sto registrando... Al momento della registrazione di questo video, Manca un iscritto per raggiungere i 100. Quindi, mi raccomando, potreste essere il centesimo iscritto. Io vi ringrazio comunque sia per la presenza qui. Ad aver visto questo video. E ci vediamo alla prossima. Bella!